Ultimo giorno del mese di agosto. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Cosa ci dice il Vangelo di questo giorno? Lo leggiamo subito. Intanto ci segniamo con il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, versetti 14-30. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così, anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui che invece ne aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro dal suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che ne aveva ricevuto cinque e ne portò altri cinque dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti, ecco ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco? Ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo, malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Lì sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Mi soffermo sulla parte iniziale di questo brano del Vangelo. Il padrone è Dio, che consegna a tutti noi in dono, oltre che la vita, dei talenti, dei doni, dei carismi. Perché? Per quale motivo? Perché li possiamo impiegare e far moltiplicare. Ma la missione nostra terrena non è eterna. C'è un tempo in cui siamo chiamati a vivere la missione terrena. E c'è un tempo in cui dobbiamo impiegare i nostri talenti. Infatti il padrone ritorna e chiede conto di quello che ci ha dato, della vita e dei doni. Ecco allora. Avete notato che ai primi due, anche se in misura diversa, ai quali aveva consegnato uno cinque e uno due talenti, i quali lavorano per quei talenti ricevuti secondo le loro capacità, il Signore dona la stessa risposta? Bene, servo buono e fedele. Non importa quanti doni abbiamo. Anche uno. Anche uno. Ma per quel dono dobbiamo lavorare e vivere la nostra missione. E anche a noi, come a quello che ne ha due, ne ha tre, ne ha quattro, ne ha cento, il Signore dice servo buono e fedele. È come la parabola del salario, no? Quelli che vengono chiamati alle sei del mattino, alle nove, a mezzogiorno, alle diciassette. Il salario è uguale, perché il Signore non fa differenza. Tu lavori, Lui ti paga. Tu non lavori, Lui non ti paga. Allora, ecco, quali sono i doni che Dio mi ha dato? Cosa vuole che io faccia? Cosa devo fare perché Lui mi dica servo buono e fedele? Ma io sono fedele davvero al Signore, al cento per cento? E sono un servo buono? Poniamoci queste domande oggi. Buon cammino a tutti. Buon cammino a tutti.